Ha rischiato di essere trascinata a largo e a negare a causa delle forti correnti. È accaduto ad un turista in vacanza nel comune di Acceroli. Importante l'intervento dei due bagnini dell'idola Rosa dei Venti che, notando la difficoltà di una donna, si sono tuffati immediatamente in mare per salvarla. La bagnante aveva oltrepassato le boe di segnalazione. I due ragazzi, Curcio Giuseppe e Andrea Zappia, bagnini presso l'idola Rosa dei Venti, hanno tratto in salvo, riportando la donna a riva sana e salva. Un episodio terminato a lieto fine con l'apprezzamento di tanti cittadini del posto e turisti che hanno assistito alla scena.